bene ragazzi bentornati sul mio canale siamo qui oggi per questa reaction di juventus sabdoria ma ovviamente non sono da solo guardate qua home hd gamer plus gamer che depresso poi chiaretta henry che ovviamente è contento per la super parata di gigio e anche mister che anche lui non ci sta credendo quindi ragazzi oggi dobbiamo vincere quindi ragazzi guaino e pachina però noi dobbiamo vincere lo stesso forza ragazzi ragazza per iniziare la partita però prima l'abbraccio di sportività ragazzi anche se dopo dopo il video aspetta perché dopo il video sul suo canale tanti insulti ma arriveranno anche a lui però noi vi bandiamo tutti si ti parte si ragazzi io e sampe dobbiamo vincere per andare a più sei dai 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 via 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 rigore non fa la rai regalo convertiti ora ti farò juve a toccata rigore ma tu a super gg porco due dell'ex madonna mio andrea andrea zitto Scusa, da te Sì Mario Sigolo Come Mario Che ne è Che ne è un parro in più Hai riattaccato tu Ha segnato per la Juventus Tatino 23 Con la numero 17 Mario Manzukic Mario Manzukic Mario Manzukic Mario Manzukic E la scudetto E in porto rega Sì Finisce il primo tempo Una 0 Juventus Super Mario Manzukic Però partita equilibrata Sì Grandi tatio Comunque la Juventus Ha creato tantissimo Tatino 23 Vero Vai tatio Uncora per Manzukic Mario Manzukic Mario Manzukic No vabbè Ci siamo Ragazzi Ti riparte col secondo tempo Fuori Quagliarello Dai Mi Dai Fuori Quagliarello Dentro E dentro Un nome Strano Connaki Connaki Konami 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 Yodo Yodo Vabbè 99 possiamo perdonarlo Ah no era Mirez Ma tokyellini però cosa ha combinato Ma come fai a sbagliare lì? Guarda lì Guarda lì Guardalo Guardalo bello siiii siiii ho uedess ha segnato con il numero 21 benedicto ho uedess benedicto ho uedess siiii vai madra mamma mia douglas siiii siiii dunque la scosta è illegale è legale ragazzi allora è quasi finita la partita siamo al 92esimo di questa partita di Iventus Sampdoria finita per ben 3 a 0 per l'Iventus che comporta che comporta quasi alla la vincita allo scudetto più sei quindi ragazzi noi nifosi napoletani siamo amareggiati da questo ma alla fine lo sapevamo che prima o poi sarebbe successo quindi non ci stupiamo più di danno anche perchè abbiamo fatto il risultato negativo oggi tu cosa vuoi dire di questa partita che comunque potreste potreste avere la vendetta allo stadion ma è difficile allora io dico che se arriviamo a cioè sicuramente arriveremo credo a finita è finita arriviamo a più cioè arriverete a più sei se Napoli arriva a meno sei dalla Iventus secondo me la partita la vinciamo comunque ragazzi comunque ragazzi per questa reaction è tutto noi ci vediamo un prossimo video bene ragazzi ciao ciao ciao